Grazie Presidente, buongiorno a lei, buongiorno a tutti, ringrazio l'assessore per la sua partecipazione, non voglio fare polemiche però non è discorso sulla questione del DCA, non avemmo risposte e anch'io mi collego all'esternazione garbata del collega Tuputi per ricordare il ruolo centrale dei consiglieri regionali, e dei commissari per avere risposte su temi che oltretutto interessano una comunità abbastanza in difficoltà, parliamo di sanità, la sanità prima di tutto direbbe qualcuno, quindi prego l'assessore ma anche tutti i dirigenti di essere più attenti, più solleciti e più partecipativi alle nostre richieste, perché le nostre richieste provengono dai cittadini utenti in difficoltà, piccolo cappelletto solo perché volevo legarmi alle dichiarazioni del collega Tuputi. Andiamo sul tema di oggi, il tema di oggi è quello che vede il 118 al centro dell'attenzione, questa richiesta di audizioni la presentammo un po' di tempo fa quando la questione andava normalizzata, in tutte le ASL pugliesi si procedeva all'internalizzazione del servizio, a Lecce ancora no, la procedura era ferma, poi si è iniziato a stabilizzare i dipendenti pian piano, ma dalle notizie del nostro possesso sappiamo che resta ancora attuale questo problema, perché rimangono nell'interpezza i volontari delle associazioni, quindi la questione non è chiusa e chiediamo come si vuole procedere, attendiamo le giuste risposte del direttore Rollo, sempre molto attento e puntuale e ci chiediamo, ricordando che all'epoca affermò che attendeva l'autorizzazione da parte della regione per superare il tetto di spesa, mentre il Dipartimento della Salute con una nota del 21 aprile scorso chiarì che le valutazioni sull'opportunità e la sostenibilità del percorso di internalizzazione, così come l'attuazione ed il suo completamento, siano di competenza totale dell'ASL di Lecce, come già era accaduto nel resto del territorio regionale. La regione poi chiarì che avrebbe trovato la copertura nel bilancio annuale, così come previsto per tutte le altre aziende sanitarie. In virtù appunto di questi appunti, di queste considerazioni di questo cronoprogramma, dei fatti che sono successi, auspichiamo di ricevere oggi tutte le risposte alle domande che abbiamo posto. Se non ci sono ostacoli perché questa questione non viene risolta totalmente, vorremmo che oggi l'ASL di Lecce prendesse un impegno ben preciso nei confronti di questi lavoratori, quindi la domanda è molto chiara e sono sicuro che il direttore Rollo, vedo che c'è anche l'amministratore di Sanità Service, possano darci delle risposte perché ci sono questi lavoratori in attesa da un po' di tempo. Grazie Presidente.